L'interrogatorio di garanzia del presunto omicida e l'autopsia sul corpo della vittima in programma in queste ore potrebbero dare un contributo decisivo a chiarire in movente la dinamica dell'omicidio di Antonio Porcu, l'allevatore di 64 anni di Sarule, assassinato dal fratello Gaettano di 58 anni che dopo il fatto si è presentato nella caserma dei carabinieri del paese ed è stato rinchiuso nel calcio di Badecarros. Un omicidio è avvenuto sabato mattina attorno alle 8 all'interno dell'azienda di Antonio Porcu lungo la strada provinciale che da ottana conduce a Sarule. All'origine del delito ci sarebbero dei dissapori relativi all'eredità di alcuni terreni. Il GIP del Tribunale di Nuoro sentirà il presunto responsabile per capire cosa abbia fatto scattare la furia omicida. Altre informazioni potranno arrivare dall'esame autoptico per capire la dinamica del delito, il numero di colpi esplosi e da quale pistola siano partiti. Arma che non è stata ancora ritrovata. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Nuoro e della compagnia di Ottana hanno effettuato i rilievi sulla scena del crimine e hanno proseguito le indagini per chiarire fino in fondo la vicenda. Il puzzle è in corso di composizione, mancano alcune tessere importanti che potrebbero andare al loro posto nelle prossime ore. Intanto la comunità di Sarule è sotto sciocco per questo nuovo fatto di sangue che coinvolge due fratelli, un'esplosione di violenza che ha turbato la tranquillità del paese.